io vorrei ricostruire con lei questi 90 minuti che le sono costati l'ergastolo perché risulta che in questo arco di tempo che è stata uccisa sua moglie la sua moglie è una segnalazione anonima la sera del 6 agosto 1993 ad avvertire i carabinieri di monterotondo scalo che in fondo a una scarpata a ponte del grillo sulla salaria nei pressi di roma c'è un pacco sospetto in realtà dentro un sacco di juta con la scritta italia poste c'è il cadavere di una donna ha ancora al dito l'anello matrimoniale sul quale sono incisi due nomi massimo e cinzia e una data di nozze 23 luglio 1988 il corpo appartiene a cinzia bruno 30 anni impiegata al ministero degli interni e madre di una bambina di tre anni il marito massimo pisano anche lui impiegato al viminale ne aveva denunciato la scomparsa due giorni prima a mettere gli inquirenti sulla pista giusta sono le colleghe di cinzia dicono che cinzia si era convinta che il marito la tradisse con una persona di riano un paese vicino a roma entra in scena così silvana agresta anche lei impiegata al ministero degli interni una perquisizione nella mansarda della donna a riano rivela tracce di sangue appartenenti a cinzia bruno silvana agresta e massimo pisano vengono fermati con l'accusa di omicidio da quel momento i due amanti diventano nemici la corte d'assise di roma ha condannato massimo pisano e silvana agresta alla pena dell'ergastolo con l'accusa di omicidio premeditato sentenza poi confermata nei successivi gradi di giudizio dichiara pisano massimo ed agresta silvana colpevoli in concorso dei reati loro ascritti unificati dalla continuazione ed escusa l'aggravante del mezzo benefico condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo dichiara entrambi interdetti legalmente interdetti in perpetuo dei duplici uffici e decaduti dalla potestà genitoriale massimo pisano che continua a protestarsi innocente e attualmente recluso nel carcere romano di rebibbia grazie a tutti signor pisano lei e silvana agresta siete stati condannati all'ergastolo perché ritenuti entrambi responsabili dell'omicidio premeditato di sua moglie cinzia bruno silvana agresta ha accusato lei lei si è sempre dichiarato estraneo al delitto allora secondo lei chi ha ucciso cinzia ma l'accusa se parliamo parlare dell'accusa che mi ha fatto l'aggressa ne ha fatte tante ne ha dette tante cose non vere su questi due processi che sono stati fatti però da quello che io perlomeno ho letto dai motivi di sentenza di ognuno di questi processi è palese che lei ne ha dentro in pieno perché su questo non c'è nessun dubbio però è stata cresta perché lei nel corso delle indagini non ha collaborato con gli inquirenti e non ha detto questa che lei ritiene così così in ipotesi io di questo omicidio non so nulla come potevo collaborare con la giustizia ma che cosa dicevo soltanto dire la mia estraneità di fatti e basta non potevo accusare nessuno ci sono state due donne nella sua vita sua moglie cinzia bruno la sua amante silvana agresta parliamo di cinzia cinzia io l'ho conosciuto all'età di 17 anni era giovane e poi dopo un lungo finanziamento che è durato otto anni ho vissuto in pieno d'accordo con entrambi non c'è stata mai una lide nell'amore del ciclo che avevamo e poi è stato giustamente colonato dal matrimonio che è stato progettato a lungo studiato nei beni particolari per chiarire una famiglia una famiglia tutta nostra anche se avevamo le possibilità economiche da comprare una cosiddetta casa dove potevamo andare a abitare poi è nata una bimba che ci ha reso felice tutti e due ecco lei mi diceva appunto che era un matrimonio felice un matrimonio d'amore però entra silvana agresta nella sua vita ma perché entra silvana agresta mi sono lasciato prendere da questa avventura novità perché è stata lei a tirarmi con dei messaggi che voleva vedere se riusciva a restaurare il porto con me e io dai oggi dai domani come si dice sono cascata vabbè però qualcosa deve averla tratta di questa donna ma lì per lì ho detto una novità anche perché ero preso da molti problemi in quel periodo per me era proprio come uno svago un diversivo ecco perché un grande amore no? no un grande amore no cosa un'attrazione fatale? anche passione non ce n'era non vedo tutta questa passione era più che altro un'attrazione sensuale ecco è durata quanto questa relazione? circa un anno e mezzo sì un anno e mezzo silvana agresta sapeva che lei era sposato? lo sapeva benissimo anche perché silvana agresta non la conosceva da un anno e mezzo no? la conoscevo da tempo e dietro perché lavoravamo insieme quindi a lei andava bene di essere la compagna di un uomo sposato? ma tra quello che se ne parlava sì a lei stava bene che io ero sposato questi problemi non si creavano lei era geloso di silvana agresta? no non era geloso affatto vabbè però questo dice lei invece silvana agresta racconta un'altra storia parla di una gelosia furiosa da parte sua ma insomma anche di percosse di botte di controlli io non ho mai alzato mani contro nessuno comunque silvana agresta abitava a Riano con la famiglia con la rossa abitava più che con la rossa perché lei sei una frazione di Riano però diciamo Riano una frazione di Riano abitava con la famiglia ecco lei frequentava la casa di Silvana? la frequentavo in quel periodo in cui ero diciamo così addetto a seguire i lavori di quella manzarda quale manzarda? sì perché gli fu lasciato dal padre un rustico che stava all'ultimo piano e lei ha voluto che io eseguissi questi lavori portando anche ditte mie e ditte sue io ho eseguito questi lavori lì sono a contatto con la madre ma soltanto rapporti così buongiorno buonasera ma i familiari di Silvana sapevano che lei era sposato? no come lo sapevo? ecco infatti Silvana mi pare che la presentasse come il fidanzato a volte dicevo un po' fidanzato come mi conveniva a lei vabbè però lei lo accettava lei era lì per fare il gioco suo era questo lei non aveva preso degli impegni con la Gresta non c'era un progetto di vita era una storia che durava da un anno e mezzo per vari motivi durava un anno e mezzo perché a volte decisi che poi quando io andavo da lei avevo dei rapporti con lei quando tornavo a casa c'era sempre quel rimorso perché però non riuscivo a a tagliare di netto questa situazione che si era venuta a creare beh era attaccata questa donna però era legato a Silvana Gresta lei se non riusciva a troncare questa situazione ma no perché quando decisi da troncarla questa qua se fu lei scattò come una molla come dedicato cioè che che se io l'abbandonavo lei immediatamente faceva sapere tutta mia moglie di questa relazione cioè perdevo uguale mia moglie a un certo punto i sospetti di sua moglie sul fatto che lei avesse un'altra donna si sono focalizzati su un numero di telefono che sua moglie ha trovato memorizzato nel suo cellulare ecco perché sua moglie si è fissata proprio con questo numero perché era un numero che risultava strano che io potessi avere poi questo come ha trovato era il numero giusto era il numero giusto che io non so come possa essere uscito fuori da questo telefonino perché non c'era memoria e lei si è fissata su questo numero e ha scoperto cosa che era di intestato da una certa naso Giuseppina che abitava a Riano viaggiava con Matteotti però il numero non era quello poi sua moglie telefonava e risultava invece una voce giovane quindi sua moglie si era convinta che a Riano ci fosse qualcosa che riguardava la sua vita eh di 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 marito di marito traditore senta e sua moglie a un certo punto a causa di questi sospetti le ha anche minacciato di chiedere la separazione sì e lei come ha reagito? ho reagito facendo tutto il contrario che facevo prima stavo più a casa era tutto non volevo solo mettere la mia moglie ma non ha troncato la relazione con la Gresta però con la Gresta Silvana era da lì per lì che doveva essere tronchiata perché anche doveva partire anche per i figli della Sardegna perché un modo o un altro doveva finire lei mi parla di un rapporto con la Gresta che si stava allentando che lei cercava di risolvere però poi che fa? le regala un anello che è un simbolo e glielo regala proprio diciamo diciamo o alla vigilia o addirittura il giorno stesso del delitto come lo spiega? quel fatto da anello è stato appunto acquistato il 3 agosto e non come dicono inquirenti il 4 perché da varie testimonianze è palese che che quell'anello è stato acquistato il 3 no veramente le testimonianze sono contrarie a lei ma comunque era un rapporto io insisto sul fatto che questo con Silvana Gresta diciamo all'epoca del delitto era un rapporto ancora molto intenso lei lo sa che la Gresta io devo dirle che ha detto esattamente l'opposto la Gresta dice che ha detto a verbale che lei praticamente lei pisano era innamorato folle di lei che era furiosamente geloso e che minacciava di uccidersi e di ucciderla qualora Silvana avesse lasciato lei insomma ma questo siamo sempre lì questa cosa che dice lei questo fa parte come il fatto di prima di tutto un castello di menzogne che lei ha detto sin dall'inizio sui verbali dunque un rapporto che certamente le mogli hanno un sesto senso sua moglie aveva parlato anche con le amiche di questo fatto che lei comunque era molto distratto, molto lontano era un'ossessione ormai diventata per sua moglie tanto un'ossessione che a un certo punto sua moglie va anche da una cartomante per chiedere e il risponso della cartomante è questo la cartomante dice che effettivamente c'era un'altra donna nella vita, nella sua vita, nella vita del marito che questa donna aveva avuto un aborto recente e che particolare e specifico questa donna non voleva che il marito di Cinzia quindi lei quell'estate andasse in ferie in Sardegna con la famiglia questo ha detto la cartomante lei di questo fatto della cartomante lei ha parlato con la grista gliel'ha raccontato che sua moglie era andata dalla cartomante si, mi raccontai che andai alla cartomante e chiedi se c'era un'altra amante di me se io tenia un amante qua quindi la grista era informata di questa cosa e un'altra cosa ma glielo dissi più che altro per fargli capire che ormai la storia si doveva concludere invece no ma lei per esempio temeva che sua moglie potesse andare a Riano a fare un blitz a indagare no non sarei mai aspettato perché lei era carattere pauroso timoroso aveva paura di tutto senta Pisano lei quando ha visto Cinzia per l'ultima volta? l'ho vista la sera prima che siamo andati da dal fratello cioè? perché il fratello doveva partire per la sera prima quindi diciamo una del 3 agosto e poi quindi siamo arrivati alla mattina del 4 agosto ecco ora vediamo insieme come come lei ha trascorso questo 4 agosto che è il giorno del delitto vediamo come l'ha trascorso però con questa premessa che quello che lei ha raccontato in tribunale che doveva rappresentare il suo alibi che ha raccontato anche durante l'inchiesta e che purtroppo durante il dibattimento non racconta ma giusto quello che lei comunque ha raccontato agli inquirenti non è stato creduto questo doveva rappresentare il suo alibi allora innanzitutto quindi percorriamo diciamolo questo giorno insieme lei a che ora è uscito di casa? come detto quarta alle 7 in quarta ecco cinzia dormiva? si lo saluto a lei che stava dormendo come a solito lei dove è andato? questo lavoro in ufficio in ufficio ecco io vorrei ricostruire con lei questi 90 minuti che le sono costati l'ergastolo perché risulta che in questo arco di tempo che è stata uccisa sua moglie quella mattina arrivai lì al lavoro successe un fatto che mancava la chiave della palestra che era delle responsabili della palestra gli fu data un duplicato e poi il suo duplicato tornò a noi l'ufficio logistico e e c'era il problema di rifare questa chiave perché era stata smarrita lei è andata in ufficio poi è uscito dall'ufficio a che ora è uscito dall'ufficio? questo il fatto di tutti quelli l'orario cioè il 10 e 10 10 e un quarto 10 e 10 e un quarto più di così non mi posso ricordare perché ma come fa un uomo a rientrare e sannunciare io non è che sono lì posso ricordare quell'ora lì risulta anche dalle testimonianze quindi lei è uscito alle 10 e 10 10 e un quarto dove è andato lei? sono messo allontanato per andare al cadastro perché? perché come ho detto prima sono giovane e facevo anche attività come giovane che non so oltre a avere un impiego questo e ho approfittato per allungarmi il cadastro per presentare queste due pratiche da cosa risulta che lei abbia presentato queste due pratiche? dalle ricevute che ricevute? ha riempito dei moduli? ho riempito due moduli per una pratica e in più c'era la ricevuta che è l'altra pratica quindi lei ha riempito si ho riempito quantomeno un modulo di suo pugno in due moduli facenti parte da questa cosa in quante copie l'ha riempito? in due ecco a lei è rimasta una copia di questa e dov'è questa copia? dove è stata dove l'ha messa lei? era una liggetta 24 ore mia dove tenevo tutti i documenti mia quella mattina e poi altri è stata ritrovata questa copia? è stata ritrovata dentro la macchina dove è stata sequestrata ma è stata fatta una perizia su questa calligrafica su questa? nulla vabbè ma su questa pratica c'è un timbro c'è un timbro c'è un timbro grande così ho scritto 4 agosto 1993 ma chi poteva farla al posto suo questa pratica? c'era qualcun altro che poteva fare? no perché quelle ogni pratica che tu fai fai a presentare il catastro che sono variazioni o nuove costruzioni le devi presentare tu perché tu sai tutta la storia della pratica non puoi delegare qualsiasi altra persona che non sa niente se c'è un problema non te lo risolvi qualcuno l'ha vista? qualcuno loro dopo quattro mesi che io ho passato in isolamento senza incontrare nessuno tramite soltanto l'avvocato io mi sono ricordato un particolare perché è una domanda che mi fecero loro non è che è partita in iniziativa mia che cosa di particolare ricorda di quella mattinata? io mi ricordo che appunto nella pratica di questo Monari perché quelli andavano fatte due file uno per una pratica e uno per questa altra pratica che quello avanti a me il tecnico che stava ritirando la sua pratica gli mancava un timbro siccome già erano stati protocollati altri fogli l'impiegato arrivato a quel punto non poteva più tornare indietro era costretto a mantenere quel protocollo e il tecnico mi ha detto guarda se vieni domani e porti il timbro e la timbri te la do domani ecco qui ma è stato rintrecciato questo signore? dalla mia difesa non è stato rintrecciato da inquirenti lei mi dice che non è stato trovato non è stato preso in considerazione dalla prima corte d'assistenza forse perché non è stato prodotto in tempi utili non lo so il motivo perché non ritenuto necessario questa è stata la motivazione comunque i giudici hanno ritenuto che in questa vicenda del catastro in questa sua affermazione di essere stato al catastro in quel in quel lasso di tempo lei non abbia prodotto elementi utili a dimostrare con certezza che lei veramente è stato lì poi dove è andato dopo il catastro? ferramenta non ferramenta ma lei ha uno scontrino in mano per questo per dimostrare? no perché non l'ho smarito non gli ho dato peso senza che ora è rientrato lei in ufficio quindi lei abbiamo detto è uscita alle 10 e 10 è rientrato invece a che ora? alle 11 e 30 infatti risulta dalle testimonianze quindi lei complessivamente abbiamo detto che è stato assente 90 minuti circa ecco ora gli inquirenti che non hanno creduto al suo alibi hanno però fatto una verifica giudiziaria sui tempi di percorrenza fra il suo ufficio e la casa di Riano ed è stato riscontrato che il tempo di percorrenza fra il suo ufficio e la casa di Riano della grista è di 20 minuti quindi 20 minuti andare perché questa prova giudiziaria è stata fatta il 3 agosto dell'anno dopo 20 minuti andare 20 minuti a tornare quindi sono 40 minuti rimangono 50 minuti secondo i magistrati che l'hanno giudicata e giudici lei in questi 50 minuti avrebbe avuto tutto il tempo di commettere questo delitto la prova è stata fatta come loro dicono che è stata fatta nelle stesse situazioni sia ambientali che eccetera però in quel periodo sui tratti di strada c'erano dei lavori in corso anche che non erano soltanto dei 400 metri come è stato detto un appello ma c'erano bensì anche altri 3 km e mezzo e sulla dichiarazione che ha fatto l'ANAS dice che c'è una possibilità di riformazione di cuta su quei tratti poi 18 minuti per fare 20 minuti in sentenza c'è scritto 20 minuti 23 km parliamo di telefono di telefonate lei ha dichiarato al processo che nel corso della mattinata ci fu una telefonata con Silvana Grista ci fu chi ha chiamato ha chiamato lei Silvana o Silvana ha chiamato lei Silvana ha chiamato me erano le 11 qualcosa stavo con un punto dal cadastro andando a ferramenta e dove l'ha chiamata? sul telefonino sul telefonino e la Grista dove era in quel momento? penso a casa perché lo che hanno sentito sentivo rumori certo ma l'ambiente è chiuso quindi vi siete sentiti e che cosa vi siete detti? oltre vi siete avete preso qualche appuntamento oltre appuntamento già l'ha stato preso la mattina per l'ora di pranzo e lei doveva andare? perché doveva montare questa la segreteria telefonica che a lei gli hanno regalato non so oltre a parlarsi con la Grista quale che sia poi la verità lei ha fatto anche altre telefonate in mattinata lei ha chiamato anche sua moglie in ufficio si ma sempre dall'ufficio mio all'ufficio mio ma lei a che ora ha chiamato la sua moglie? è 11 e mezza poi ho appena rientrato con il tempo da consegnare le chiavi che avevo fatto e mettermi a sedere e compro il numero perché quella mattina c'era ancora un'altra cosa che mia moglie mi doveva far sapere che doveva cambiare i biglietti per la Sardegna su un altro traghetto invece che quello infatti lei si doveva incontrare con Adriana per fare questo cambiamento e mi doveva far sapere questo qua se c'erano stati problemi e poi doveva comunicare che non andava a pranzo e lei parla con sua moglie? perché non parla con sua moglie? perché mi è stato sempre negato una volta stava a spostare la macchina una volta stava a fare cocazione una volta era uscita Costella cioè lei in ufficio non c'era infatti al processo è emerso che sua moglie quella mattina aveva chiesto un giorno di permesso e aveva chiesto ai colleghi di ufficio di coprirla con lei cioè di non dire che non era in ufficio qualora lei avesse telefonato di inventarle delle scuse per non per non fare capire a lei che lei non era in ufficio ma lei ricorda quante volte ha chiamato sua moglie in ufficio quella mattina? non è preciso no ma comunque 5 o 6 volte perché? il perché è semplice perché se io chiamo in ufficio e mi dicono guarda chiamalo a 5 minuti e io richiamo per 5 minuti e poi visto che non c'è ti dico quando torna fammi chiamare e poi visto che non mi chiama io richiamo a lei e allora mi chiamavo e mi si inventava un'altra storia poi è arrivata l'ora che lei sta per forza in ufficio non mi chiamava ho chiamato io e poi non è possibile ma infatti devo dirle che questa insistenza da parte sua è sembrata sospetta sì è sembrata sospetta ma il motivo era valido il motivo mio è da far insistenza perché mi doveva rispondere ecco però lei quando è che comincia a preoccuparsi per l'assenza di scienze? la sera la sera stessa perché in prima istanza si credeva che era stato un allontanamento così per riflettere per fare sì ma invece risulta che lei si è agitato subito perlomeno ha mostrato di agitarsi in modo quasi sproporzionato per subito intendo subito nelle prime ore del pomeriggio già nelle primissime ore del pomeriggio tant'è che lei ha chiamato questo suo amico vigile del fuoco li ha fatto controllare col terminale gli ospedali e poi è andato in giro ha cercato sua moglie a stazione Termini l'ha cercata al verano ha telefonato sua socia era dal verano ecco ma lei perché era così preoccupato? e lei si è preoccupato subito? sì perché c'è stato un motivo c'era perché mi hanno detto che che Cinzia era uscita con un'amica sua che teneva un motorino e non tornando perché ho chiesto pure di questa amica qua non tornando questa amica e non tornando mia moglie io la preoccupazione era che fosse successo qualcosa con il motorino ecco perché feci interessare questo mio amico per chiamare di pronto soccorsi visto che stavo in macchina come faceva a chiamare l'ultima e lei poi non si è accertato se questa amica era in buone condizioni di salute? l'ha chiamato lei ma appunto a proposito di telefonate io vorrei tornare sul telefono che è un po' un protagonista di questa vicenda perché il suo cellulare resta muto per tutta la mattinata la prima telefonata sul suo cellulare poi dal tabulato viene riscontrata alle 13 e 55 lei chi chiama a quell'ora? chiamò la cresta Silvana per dire che stava andando con lei come abbiamo preso appuntamento per dire che stava andando sì ecco e poi che succede? poi chiamai sempre casa sempre col cellulare quando ero già uscito dal lavoro che mi stavo dirigendo da Versa Oriana per sapere se era tornata mia moglie e non era tornata allora io chiamo la cresta non so se faccio una o due telefonate perché mi è cascatato e io dico che che mia moglie ancora non è tornata a casa e dico guarda che devo annullare sta puntamento perché voglio vedere che che è successo e che non è successo ma non è due e mezzo ma visto che si era preoccupato che mia socia era a casa ma non è poi Pisano che lei ha un amante e chiama l'amante per dirle che si preoccupa per sua moglie questa amante si poteva un po' seccare insomma per questa sua ansia devo dire che non andavo più a pranzo comunque lei contatta varie persone quel primo pomeriggio fra le chiama come abbiamo detto l'amico eccetera per fare controlla gli ospedali eccetera però chiama anche in particolare l'amica più cara di Stella l'amica più cara di Cinzia scusate e questa signora che è una persona con cui sua moglie si confidava lei suggerisce di andare a Riano lei dice vai a Riano perché tu lo sai che tua moglie ha in mente che Riano abbia a che fare con certa tua infedeltà quindi vai a Riano cercala lì ecco anche questa questa amica le ha anche detto che e sua moglie aveva in mente di fare un blitz a Riano di andare a controllare a Riano lei a Riano ci va o no? Sì ci vado che erano l'ariano che erano nel 16 e 30 devo giù poi rifaccio la la framigna per vedere se effettivamente erano ad Riano entro nel paese faccio tutte le strade del paese passo vicino a casa della Grezzo quindi non sale su dalla Grezzo no perché non c'era né macchina né niente non c'era nessuna macchina sotto e poi cosa succede? e poi intendo fare la tiberina perché per andare lì a Riano ci possono fare alcune strade venendo dal centro per fare la tiberina e incontro sull'arianese appunto a Grezzo che tornava a forte velocità non so da dove e poi il lampeggio lei mi vede e mi dice di seguirla e invece di andare verso casa si ferma a una traversa di fronte alla traversa che ha portato a casa sua che non c'era i parigi quindi mi siete fermati lei cosa ha fatto? è scesa dalla macchina? è scesa dalla macchina lei è scesa dalla macchina è scesa lei? tutte e due e vi siete parlati? sì che ero preoccupato che stanno ancora che mi era tornata a casa i miei muri e lei era vestita in un modo strano comunque lei mi dice che la incontra alle 16 e 30 quando la incontra quando la incontra quando la incontra quando la incontra Silvana Gresta Cinzia è già stata uccisa e come le è sembrata Silvana? qualcosa di strano c'era che non ho percepito non era lei diciamo non è come era vestita truccata non era truccata per niente non era da lei però vi siete insomma vi siete fermati vi siete parlati ecco 27 fra lesioni e chimosi soprattutto localizzate alle braccia e alle gambe ecco queste chimosi e lesioni sono state giudicate il risultato di una colluttazione violenta ecco lei la vede sta vicino a lei parla scende dalla macchina e come ha fatto lei a non accorgersi che questa donna era tumefatta che era piena di botte di segni di chimosi non ho fatto caso non ho potuto notare non ho notato ho notato delle scoriazioni sulle mani il venerdì quindi lei lascia la grista e che fa la richiamo al telefono nel pomeriggio si mi ha chiamato sempre lei perché voleva sapere come andavano le cose ha chiamato lei chiamava chi chiamava era la chiamavo io perché lei dove chiamava non sapevo chi stava o chi non chiamava per forza la chiamavo io ma lei ricorda quante telefonate ha fatto nel pomeriggio alla grista intendo 5 6 7 lei ne ha fatte 11 lei nel pomeriggio nel pomeriggio c'è il tabulato della SIP lei la prima volta l'ha chiamata alle 13.55 poi l'ha chiamata alle 14.14 alle 14.32 alle 14.55 alle 15.18 alle 15.41 alle 16.41 alle 17.02 alle 19.42 alle 22.24 alle 22.32 è un po' strano lei lo sa che queste tutte queste telefonate poi hanno avuto hanno avuto una lettura hanno avuto una lettura diversa perché insomma in un momento di di ansia ma quelle erano 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 soltanto in quel pomeriggio pure al primo pomeriggio telefonavo sempre la signora la Silvana non è che solamente in quel periodo perché lei si mostrava come ripeto preoccupata e voleva sapere lei quando denunzia la scomparsa di Cinzia? mezzanotte mezzanotte e trenta dei giorni ma quando lei fa la denunzia lei lo racconta ai carabinieri quello che le hanno suggerito le amiche di Cinzia cioè che Cinzia poteva essere andata a Riano per controllare per fare un briz per per cogliere la infragrante adulterio no non le ho che forse era era si era allontanata da casa perché c'era un momento di riflessione sia da lei che da parte mia quella che anche io per questa riflessione tanto è vero che il commissario mi disse ti preoccupa che succede però lei non fa cenno a Riano non dice che questa sua amica minimamente non pensavo che potesse ma comunque lei lo omette lei non dice che c'è questo questo litigio questa ipotesi che sua moglie sia nata Riano questo suggerimento che le amiche comunque non lo dice ero convinto da tutte le mie amiche che mi dicevano che Cinzia sia in testa da fare questo questo e questo se vuole allontanare da casa votevo la fanno dispetta a te tutte queste cose qua comunque Cinzia scompare il 4 scompare purtroppo viene uccisa il 4 agosto ma scompare il 6 agosto pomeriggio quindi 2 giorni dopo quella che è ancora la scomparsa di Cinzia c'è un primo colpo di scena perché suo fratello riceve una telefonata anonima è una voce di donna che parla e questa donna dice questo a suo fratello dice che Cinzia ha una relazione da 7 anni con una persona non del suo ufficio che 4 mesi prima quest'uomo l'ha messa incinta e l'ha fatta abortire che quest'uomo le ha imposto di non andare in vacanza in Sardegna con il marito come era stato programmato che la relazione era coperta dalle amiche e che Cinzia era scappata con quest'uomo ecco quando lei quando suo fratello le riferisce di questa telefonata lei come reagisce? lei ci crede? no crederci no non ci ho mai creduto perché era proprio assurdo che mia moglie avesse un'altra una relazione con qualche altra persona i suoi amici invece al processo hanno dichiarato che lei appena ricevuta questa notizia di questa telefonata di questa donna suo fratello ha detto a tutti Cinzia sta bene quindi come se lei invece avesse creduto a questa versione dei fatti eh perché una telefonata non so se l'ha letto diceva che Cinzia stava bene non preoccuparsi quindi lei comunque non ha creduto alla fuga d'amore però ha creduto che stesse bene in sede di indagine poi è stato dimostrato che questa telefonata era stata fatta da Silvana Grista si fu riconosciuta la voce da mio fratello suo fratello ma quando lei ha appreso il contenuto della telefonata non le è venuto in mente che erano le stesse cose che la cartomante aveva detto a sua moglie non ha ricollegato queste due cose di quella cartomante mi ricorda soltanto che io tenevo una relazione con un'altra dell'aborto era talmente arrabbiato di questo fatto di questa persona che aveva detto queste cose a mia moglie che non cioè perché quella persona ha una cosa a mia moglie permette in cattiva luce tutta cioè da lì è partito tutto il 6 agosto sera poche ore dopo la telefonata anonima viene ritrovato il cadavere di Cinzia a ponte del Grillo l'esame esterno sul cadavere di Cinzia Bruno è stato eseguito la mattina del 7 agosto 1993 alle ore 11 e 30 a carico del poio capelluto vi erano numerose ferite l'acero contuse ed erano il numero di 11 lo sterno fratturato ferite da taglio alla carotide alla giugolare e alla trachea ecchimosi ed escoriazioni su braccia gomiti e ginocchia 11 ferite l'acero contuse al capo numerosissime pastiglie anfitamine analgesici calmanti per la tosse ancora integre nello stomaco e tra i capelli della vittima i periti ricostruiscono così l'omicidio di Cinzia Bruno una collottazione violenta compiuta da almeno due persone una delle quali certamente di robusta costituzione un tentativo di somministrazione coatta e forzata di farmaci per simulare un suicidio è possibile eh dal punto di vista scientifico che una persona eh assuma eh in stato di incoscienza pasticche quindi contro la sua volontà no direi direi che fuori dubbio che soprattutto il numero poi delle compresse erano adesso io non mi ricordo l'esito della perizia tossicologica credo che siano state superate il numero di venti ad occhi e croce di 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 compresse quindi penso di poter escludere che questa eh ingestione possa essere avvenuta in uno stato di incoscienza o semi-incoscienza noi riteniamo che l'abbiano condotta nella manzarda in uso a Silvana Agresta il delitto è accertato avviene nella tarda mattinata del 4 agosto nella manzarda di Silvana Agresta a Riano è l'agresta che contatta subito Sabatino Gigante e Maurizio Severini incaricandoli dietro un compenso di 5 milioni di far sparire il corpo e mi disse ci sono 5 milioni per portare via questo pacco e allora gli disse Silvana ma che c'è sta dentro e poi mi disse la verità mi disse che c'era un un morto disse perché se gli serviva un aiuto per portare via questo pacco perché ha detto che era grosso e mi la faceva le disse quanti soldi c'erano da guadagnare si ma ha detto c'era da dire 5 milioni c'era proprio un corpo di collia muochi da manco io per te per il reato di occultamento i due sono stati condannati a 4 anni di reclusione il 7 agosto lei e Silvana Gresta venite fermati e venite fermati con l'imputazione di aver ucciso insieme Cinzia Bruno secondo gli elementi emersi dalle indagini che sono poi state confermate nelle sentenze lei e Silvana Gresta secondo un piano premeditato avete attirato Cinzia nella manzarda di Riano avete cercato di ucciderla simulando un finto suicidio per avvelinamento ma il piano non avrebbe funzionato per la reazione di Cinzia che è stata una reazione disperata certamente e allora l'avete finita a colpi di bastone e di coltello ecco questa è l'accusa per la quale voi siete stati anzitutto fermati e poi condannati lei cosa mi dice su questo? per tutta l'assurdità potevo mai io compiere una cosa così orrenda perché questa è stata una cosa orrenda incredibile proprio perché non ha fatto del male a nessuno mia moglie era soltanto andata lì non so come per compiere un blitz o se attirata attirata da chi? quando? dove? come? e poi vedremo perché in effetti appena arrestati le strade sue la strada sua e quella della Gresta si dividono perché voi che eravate amanti diventate nemici e io signor Pisano prima di proseguire devo dirle che Silvana Gresta è stata invitata a prendere parte a questo programma la signora Gresta ha rifiutato quindi sarò io a ricostruire la versione dei fatti che la Gresta ha fornito la Gresta anzitutto l'ha smentita e ha negato la versione dei fatti da lei data e ha accusato lei signor Pisano di essere l'unico autore del delitto ha ritagliato per sé un ruolo marginale ecco io innanzitutto le chiedo come spiega che una donna innamorata ha potuto accusarla così implacabilmente perché non c'era vero amore non c'era questa amore non c'era se no non stavo qui non c'era vero amore da parte della Gresta e la Gresta ma neanche io da parte mia era un rapporto così vabbè adesso infatti vediamo cosa dice la Gresta rispetto a questo 4 agosto ma che è il giorno poi del delitto la Gresta dice che lei è uscita alle 8.30 di casa sua è uscita alle 8.30 ed è rientrata alle 10 no dalle 8.30 alle 10.30 la Gresta dice di avere lavorato a casa del prefetto poi finisce di lavorare e va a fare la spesa al supermercato di Riano intorno alle 11 la Gresta dice che di essere rientrata a casa e a mezzogiorno ha ricevuto una sua telefonata in cui lei le avrebbe detto c'è un pacco in manzarda fallo sparire quindi secondo la Gresta lei Pisano avrebbe ucciso sua moglie e poi avrebbe incaricato la sua amante di fare sparire il cadavere minacciandola peraltro di farle fare la stessa fine se non avesse obbedito ecco lei come risponde a questa cosa ma io questa domanda neanche vorrei rispondere perché mi sembra un offeso davanti a lei a intelligenza sua dottoressa Leosini perché ma se mi immagino lei che io arrivo a Riano un piano giorno con la mia macchina parcheggio sotto casa sua tiro fuori pacco voi chiamate pacco mamma da fastidio so che sono al pensiero che dentro questo famoso pacco c'era un c'era lo staccarmo cioè carico questo so come braccio le spalle faccio quattro piani poi poi per lasciare il pacco e per andarmene e incaricare lei di una mansione così delicata di chiamare altre persone a interessarsi di una cosa che io secondo loro ho ideato ho progettato ho fatto tutto quanto per quale motivo ma io sono alto 1,82 m questo è più di 100 kg ma c'ho forse bisogno di aver fatto tutta questa storia questo fa parte come ho detto prima è un castello dei menzogni a quale lei ormai si è arroccata arroccata in questa situazione e non muove più ci fuori e dice questo soltanto per alleviare le sue responsabilità soltanto questo perché non capisce qual è il vero dramma in questa situazione ma continua ancora a fare del male ancora di più di quello che ha fatto prima della vita a una donna giovane di 30 anni madre di una bambina di 3 che non gli aveva togliere i papi perché perché non so perché perché una persona è capace da fare una cosa del genere per quale motivo per quale motivo lo so ho ricevuto questa telefonata dal Pisano a che ora e quando? dopo ritornata dal lavoro a che ora? adesso a mezzogiorno così e lei ha ricevuto questa telefonata dal Pisano al Pisano che cosa lei ha detto? si dicendomi che a casa mia c'era un pacco io avrei dovuto farlo sparire avrei dovuto pensare a tutto quanto io e non mi sarei dovuta preoccupare perché a me non sarebbe successo niente c'è un secondo punto di questo sì che lei avrebbe visto questo pacco già chiuso e legato sulla terrazza del suo appartamento sì trovato già quando questo? dopo la sua telefonata dopo la sua telefonata dopo la sua telefonata su questo appunto non è che assolutamente aveva fatto questa telefonata ritornando appunto alla ricostruzione dei fatti devo dire che dalla perizia risulta che Cinzia è stata uccisa da due persone una delle quali di robusta corporatura e la dinamica dei fatti è stata ricostruita così c'era una delle due persone nella fattispecie Silvana Agresta sarebbe stata Silvana Agresta che stava davanti a Cinzia e lei infilava in bocca violentemente le pillole nel corpo di Cinzia ne sono state trovate 20 le pillole per avvelenarla e questo spiegherebbe essendo lei davanti a Cinzia tutte quelle tracce le chimosi le lesioni che sono state trovate il numero di 27 nel corpo della Agresta poi una seconda persona che secondo l'accusa sarebbe lei quindi di corporatura robusta che certamente teneva ferma Cinzia e per dare modo appunto di che queste pillole venissero violentemente ingerite dalla povera Cinzia e questo spiegherebbe quelle ecchimosi piccole lesioni che sono state riscontrate alle mani alle dita e alle ginocchia questa è stata la ricostruzione dei fatti le mie lezioni sono agli stinchi e alle nocchi qui delle mani da entrambe le mani che poi le lezioni che ho avuto io tanto quelle perché avevo anche un brigadiere una caserma di Monte Rotondo a dire che io quelle lezioni mi sono procurate dando un pugno al muro della caserma ma io il pugno non ho dato soltanto al muro della caserma l'ho dato pure in cella quando mi hanno arrestato perché uno dei miei sfoghi miei quando succede qualcosa così nervoso è quello da dare cazzotti così al muro Senta Pisano poi c'è il problema della macchina di Cinzia questa macchina è stata ritrovata tre giorni dopo il delitto ha nel parcheggio antistante il bar Euclide chi ce l'ha portata la macchina questo non ho capito neanche io che ce l'ha portata non sono riuscito a capire né tanto da quello che ha detto la Grezza che secondo la Grezza gli avrei dato io l'indicazione dove era sta macchina io ho una macchina di mia moglie l'ho solamente cercata non l'ho mai trovata allora questa macchina questa macchina io sinceramente di questa macchina come tutto il resto non so niente perché tutto ciò che io sono andata a conoscenza tramite tutto ciò che mi ha riferito e quando io l'ha detto questo fatto? il venerdì il venerdì pomeriggio eh il venerdì pomeriggio dove? il venerdì pomeriggio vicino allo stadio Flaminio hai incontrato lui vicino allo stadio? sì, lui mi ha dato appuntamento perché io non dovevo andare a Roma per incontrarmi con lui ma dovevo andare in ufficio per prendere alcuni documenti e lui mi diede un appuntamento vicino al ministero poco dopo mi richiama ancora dicendomi di spostare questo appuntamento non so perché aveva le sue paure e mi disse di incontrarci al solito posto il solito posto sarebbe stato vicino allo stadio Flaminio ed è lì che io sono venuta a conoscenza della macchina senti lei si dichiara estraneo del delitto ma si è fatta almeno un'idea di come si possano essere svolte le cose in quella manzarda Miriano? quella più plausibile per me può essere che mia moglie sia andata lì per vedere chi effettivamente abitava questa casa una volta stabilito ho visto che era che si conoscevano poi si conoscevano tramite il ministero di internio e queste cose qui perché lavoravate tutti si tutti hanno distaccato una parte l'ho distaccato l'altra non era quello per cui perché il quarto in manzarda è quello che io non riesco a capire come ha fatto a arrivare fino a manzarda perché ci sarà andato come un accordo a manzarda lì poi come la somministrazione dei seppasticchi è quello che non riesco a capire perché i seppasticchi perché secondo me quelle che io avrò trovate scelte nel sangue saranno state andate scelte nell'acqua visto che la cosa che uno accetta in qualsiasi momento dentro una casa nel fascia caldo e tutto mi era dato star poi quell'altra gli avrà dato mischiato con yogurt e lì quando mia moglie si è accorta del suo yogurt si è accorta che era uno seppastic e lì è successo tutto quanto però comunque è stato un delitto particolarmente ferato atroce atroce certamente Silvana Gresta è una donna fragile sottile ma quello che insomma non può essere comunque non l'ho mai negato io sin davanti al GIP mi ho detto guardi che secondo me è una mia ipotesi qui sono state più delle due una persona minimo due perché come faceva questa Silvana a fare determinate cose lei non ha mai avuto sospetti non mai sospetti certo che per aiutarla a fare una cosa del genere qualcuno ha legato strettamente a lei come è possibile signor Pisano che lei ha continuato a vedere a sentire questa questa signora grista nei giorni successivi al diritto ma è possibile che non gli abbia mai raccontato nulla questa donna mai signor Pisano ma è possibile lei è una persona intelligente che non le sia mai venuta in mente che la scomparsa di sua moglie potesse avere a che fare con Riano perché non credevo mia moglie che andava lì che lei fosse una relazione del genere non l'ave mai poi mai pensato lei sapeva che Riano era nella mente di sua moglie non faccio l'investigatore non faccio quello non riesco perché non sono riuscito a mettere insieme tutto questo mosaico che portava questo perché non le hanno creduto secondo lei non so perché sono imputato sono il primo indiziato ecco lì e sono non me lo vedo niente però se ne scordate una cosa va subito gli schiavitini io lì con l'orario no cinque minuti prima cinque minuti dopo non mi stavo scherzando non mi hanno ammazzato di moglie voi vi state preoccupate un minuto prima un minuto dopo e poi mi date venti minuti che fa ventitré chilometri sono in bochite io vedete che con 40 minuti ho fatto tutto qualcosa così atroce tornando al lavoro vestito uguale senza uno schizzo di sangue perché i pantaloni me l'hanno sequestrati me l'hanno controllati ci sono due mesi e io sono normale allora dopo aver tornato al lavoro adesso ho parlato con gente se stanno qui il testimonio mi hanno ritrovato normale tutto ma chissà un mostro lo sai una volta mi fanno cinico e freddo il calcolatore poi mi fanno che sono stupido perché sono stupido una volta mi fanno interigetta una volta c'è la memoria troppo approfondita mi ricordo troppo particolare mi ricordo che ho fatto come faccio a ricordarmi Senta signor Pisano lei quindi si dichiara innocente però perché al processo lei si è avvalso della facoltà di non rispondere quella è stata una scelta difensiva perché si riteneva come stava dicendo prima che tutto quello che c'era in possesso degli inquirenti non provava niente e che io dovevo essere assorto in base a quello che tenevo al processo Silvana Agresta ha accusato lei implacabilmente perché lei a sua volta non ha mai accusato apertamente Silvana Agresta forse è la prima volta adesso mi metto determinate cose perché come faccio ad accusare Agresta e Silvana di una cosa che io non so quello che ha fatto che cosa gli faccio che mi hanno inventato qualcosa mi hanno inventato qualcosa che forse venivo creduto se io mi inventavo qualcosa non prendevole il gas forse era meglio che lei al processo parlava parlasse lei in che misura lei si sente responsabile di questa tragedia come dicevo prima in quel senso dei colpa che mi ha perso che la mattina la sera l'avete tradito mia moglie che non andava tradita perché non se meritava e non se meritava la nostra fine lei cosa si aspetta per il suo futuro quello che mi aspetto lo so dal futuro è l'unica possibilità da poter rifare questo appello questa Cassazione accetta o meno i motivi nel ricorso cioè che venga riconosciuta l'illogicità delle sentenze e tutte le varie cose la sua innocenza sì che cosa prova lei oggi per Silvana Agheresta? oggi certo rancore però anche se sono un cattolico non riesco a perdonare questo momento perché mi ha fatto del male mi ha distrutto mi ha rovinato ma non solo le famiglie mi hanno tanta gente tantissimo io non ho più una famiglia mia moglie me l'ha torta non vedo la bambina da tre anni ho tre anni che non vedo i miei figli e i rapporti che c'erano prima tutti quanti amici ha tornato non chi mi scrive più nessuno perché magari se non mi scrivono a me in qualche modo vengono coinvolti è assurdo è assurdo che cosa posso provare? tutto questo tanto che che lei si deve fanno attimo un'intero locale che capire gli sbagli che ha fatto e assumersene nessuna responsabilità assumersene veramente senza rovinare più altra gente lei sta ascoltando una condanna a vita per un delitto che dice di non aver commesso ma è sicuro di avere detto tutto quello che è santo su questo delitto? tutto tutto e non mi hanno creduto niente perché le cose sono tanto che non c'è più e non c'è più e non c'è più che santo che sia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.